buongiorno sono fabio fullone e oggi siamo qua a roba somero in vienna frank per presentarvi un alloggio in un contesto come vedete di recente costruzione e sito al primo piano più la mansarda è un alloggio ottimamente rifinito e completa la proprietà anche un box doppio per qualsiasi informazione contattati grazie